Buongiorno ragazzi, sono Mike su Primo e quest'oggi vi porto un nuovo episodio di Planet Coaster quest'oggi ebbene costruiamo un standing coaster, ovvero una montagna russa dove si sta in piedi iniziamo come sempre dalla base, andiamo verso l'alto, dobbiamo darci un bel po' di spinta quindi non facciamoci problemi, andiamo verso l'alto e dopo una bella discesa ripida con una curva verso destra, ci aggiungiamo in seguito un loop seguito da un Norwegian loop così credo che si chiami quell'aggeggio con due loop uno dietro l'altro messi in una posizione praticamente perpendicolare rispetto al nostro tracciato, una bella curva larga così passiamo dall'altra parte e facciamo un piccolo test finché ci occupiamo di smussare alcune curve che sono troppo troppo ripide, sembra funzionare tutta la grande, ha sufficiente spinta il nostro progetto e di conseguenza continuiamo, vi assicuro che costruire al buio non è per niente facile soprattutto quando non si riescono a vedere neanche gli stacoli oppure le rocce che ci sono sul terreno, ma non è un problema per noi perché concludiamo il tutto e avviamo un test molto veloce e semplice che servirà per dirci effettivamente come funziona ha sufficiente spinta, anzi ha anche parecchia velocità, mi aspettavo che andasse un po' più lento considerando tutte queste curve, quest'ultima curva infatti non mi convince più di tanto e allora decido di rifarla ci siamo, abbiamo finito la costruzione della montagna russa, iniziamo adesso la costruzione di quella che è la struttura che circonderà la nostra montagna russa volevo fare quindi la base bianca con magari delle tinte di arancione e azzurro non ho una idea ben concepita in testa ma improvviserò man mano che vado avanti mettiamo queste pareti bianche che sono molto chiare e molto suggestive sono alcuni degli asset che possiamo trovare al momento su Planet Coaster ma come vi ricordo è una fase alfa non possiamo pretendere che ci sia troppa roba però non è neanche così malaccio le basi mattone ci stanno bene con le pareti bianche abbiamo però questo buco all'interno della stazione che è un po' strano in effetti mentre c'è qualcuno che casca dentro conoscendo qualche persona che è un po' più sbadata potrei dire che potrebbe anche succedere aggiungiamoci il tetto che è azzurro ma non completamente perché vogliamo iniziare a lavorare all'illuminazione interna che ovviamente sarà comunque qualcosa di molto semplice queste lampade da muro faranno esattamente quello che devono sono perfetti per la mia struttura sono ovviamente bianchi come le pareti una volta completate le illuminazioni che cerchiamo di rendere uniformi un po' dappertutto dentro la stazione adattandoli ovviamente in base alle necessità magari già che ci siamo alziamo un po' queste lampadari perché a meno che uno sia alto un metro da scorreggia decisamente ci andrà a sbattere contro con la testa e adesso riempiamo quel buco come avevo detto ci sono dei cespuli con i fiori bianchi che faranno esattamente il caso nostro secondo me sono perfetti una volta sistemati alla base uno, due, tre e il quarto il quarto che cerchiamo di incontrare là sotto ma non possiamo mettere solo cespugli quindi ci servirà anche qualcos'altro per ricoprire gli spazi ulteriori qualche albero magari no ma delle rocce delle rocce sono perfette per riempire gli spazi sotto al binario e già che ci siamo anche dall'altro lato facciamo lo stesso lavoro sistemate una o due rocce magari vediamo che trapassino il muro e quindi un po' di decorazioni interne decisamente suggestive questi quadri giganti che non faranno altro che fare un po' di pubblicità al nostro parco e la pubblicità ci fa sempre comodo in tutti i sensi spostiamo la lampada perché era in mezzo al nostro pannello e adesso completiamo l'edificio con il tetto e per il tetto ho pensato una cosa molto simpatica molto solare infatti utilizzeremo queste tettoie in vetro trasparenti per la colonna in mezzo e faremo sì che ci sia un po' più di illuminazione durante il giorno senza dover ottenere sempre le luci accese ovviamente sul lato dell'uscita mettiamo un po' di natura sistemiamo ancora alberi natura perché come ricordate la natura fa un bel po' la differenza e mettiamoci dei chioschi i chioschi sicuramente tireranno un bel po' di gente ed è quello che mi interessa per la mia attrazione anche se mi ritrovo dal lato dell'uscita quindi sì tireranno gente qua in zona ma magari non entreranno direttamente il tetto è sempre una scelta ardua soprattutto per queste capanine piccole che non riesco a trovare mai un tetto decente vendiamo bevande e hamburger a forma di pollizzotto quindi chief beef ci sta benissimo così come anche la mucca ci sta bene per le bevande illuminazione la mia preferita nel pavimento che punta verso l'alto dovrebbe illuminare abbastanza bene gli edifici anche se come illuminazione generica del sentiero non saranno una merda mazza puntate verso l'altro ma non ci interessa non interessa l'aspetto estetico in questo caso e ci piacciono così quindi abbiamo sistemate 4 o 5 ci manca la sesta e abbiamo finito anche l'illuminazione di questo posto bene qualche insegna luminosa magari anche se non sono luminose ce le inventiamo la luce successivamente una mucca sul tetto e un chief beef dall'altra parte e ovviamente per illuminare ci mettiamo i faretti questo colore azzurro verdastro oppure verdacqua oppure azzurro verdastro acqua come chiamatelo come volete e un po' di rosa ci stanno benissimo per identificare i due chioschetti e separarli e già che ci siamo come ho detto i sentieri che sono al buio non è una grande idea perché potrebbero farci causa se magari qualcuno inciampa addosso a qualcun altro poi muore perché è calpestato dai visitatori illuminiamo tutto il sentiero sia verso l'inverso che verso l'uscita e magari apprestiamoci ad aprire la giostra il primo visitatore si avvicina alla nostra giostra e siamo in prima fila attenzione l'illuminazione con questi pannelli tutto un po' astratto un po' futuristico con una grande insegna di planet coaster con tratto di scintille e i pannelli laterali con l'illuminazione che punta verso il mezzo con una grande freccia per farci vedere da che parte si entra e un po' di flickering o chiamatelo come volete potete vederlo in alto è colpa del fatto che siamo ancora in fase alfa ma nessun problema si sale in prima fila come ricordo è uno standing coaster quindi si sta in piedi aspettiamo che arrivi qualcun altro sarei proprio curioso di provare dal vivo uno standing coaster dove tutte le forze delle curve e via dicendo le sentiamo stando in piedi ed ecco che si parte si parte all'alba non so come stare praticamente 24 ore in un parto c'è ancora la luna su alta nel cielo quello che so è che sto per divertirmi un sacco guardate che vista ragazzi e godiamoci il giro ammetto che visto così sembra veramente un gran casino con tutte quelle curve e tutti quei movimenti che sono abbastanza sarebbe ancora a lavorarci su soprattutto per lisciare alcune parti che sono molto incasinate e molto brusche ma così direi che si conclude anche questo episodio di Planet Coaster spero che vi siate goduti la costruzione di questa montagna russa così come io sono goduto a costruirla sono Mike Supreme vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo al prossimo episodio fino alla prossima buon proseguimento e ciao ciao Grazie a tutti.